ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente nel mio canale il canale dell'italian guy se è la prima volta che passo di qui il mio canale tratta di ricette tradizionali convertite in versione chetogenica qualora è possibile viaggi quando viaggio mi piace documentare dove vado e di recensioni di oggetti a volte compro dei gadget tecnologici che mi piacciono e li recensisco e li metto sul canale oggi ancora una volta la video ricetta di oggi è il pane il famoso pane dato che quando entriamo andiamo in chetogenica siamo abituati a mangiare pane noi italiani e quindi vogliamo il pane anche con la alimentazione chetogenica io la definisco alimentazione perché non credo sia una dieta da seguire per poche settimane o mesi ma un corretto stile di alimentarsi fino alla fine io sono in cheto da quasi due anni a luglio faranno due anni e ne ho 46 e mezzo li rimostro avevo indetto un sontaggio qualche giorno fa youtube youtube mi ha dato questa possibilità dato che ho superato i mille iscritti e avevo messo nelle scelte della prossima video ricetta la prossima video ricetta da scegliere avevo messo la torta noci e caffè il pan carré e i panini per hamburger ed è questa quella che ha ricevuto il maggior numero di consensi in effetti sul canale c'è già un video dei panini hamburger ve lo faccio vedere qui l'ho definito pagnottelle cheto ed è fatto con la farina di cocco e l'opsilio e praticamente non c'è bisogno e la farina di semi di lino e quindi per coloro che sono allergici alle mandorle alcuni di voi nel canale lo sono andava veramente a pennello l'unico neo è che l'opsilio che ho utilizzato in cottura mi ha scurito le pagnottelle in una maniera orribile erano divenute veramente troppo scure ora ho cambiato marca e questo obsilio che ho preso non scurisce gli impasti come avete visto nell'immagine del video e quindi ho deciso anche memore del fatto che ha ottenuto il maggior numero di consensi nel sondaggio ho deciso di realizzare nuovamente il video delle pagnottelle i panini per hamburger l'unico appunto che quando ho creato l'impasto quando ho formato l'impasto l'ho fatto a filone voi ovviamente potete seguire il video delle pagnottelle e fare delle palline che poi appiattite leggermente nella teglia e via in forno detto questo ho parlato troppo vediamo come si preparano iniziamo con l'ingrendiente principale 120 grammi di farina di cocco attenzione quando comprate la farina di cocco quella in polvere ecco vedete questa a sinistra che da 16 grammi che contiene 16 grammi di carboidrati per 100 grammi è quella che ho utilizzato mentre quella a destra sono entrambe biologiche ne contiene addirittura 26 quindi è sicuramente da scartare procediamo con la preparazione della ricetta 80 grammi di farina di semi di lino e adesso viene l'opsilio una marca nuova 40 grammi di bucce che non mi scurisce l'impasto adesso è il turno della gente lievitante ne ho messi 10 grammi lievito per salati io non metto il sale in questo caso però voi ovviamente sentitevi liberi e qui potete anche speziare aggiungendo non so se vi fa piacere aglio in polvere oppure un po' di parmigiano rosmarino quello che vi piace ok dopo aver mescolato gli ingredienti per bene 450 millilitri di acqua bollente ok stavolta non l'ho dimenticato l'aceto 50 millilitri e ora impastiamo impastiamo inizialmente con la marisa dicono vabbè al nord dicono la marisa ho usato un cucchiaio in modo che l'acqua si raffredda perché viene assorbita dal composto e dopo aver utilizzato il cucchiaio utilizziamo le manine il migliore strumento che ci sia ecco quindi andiamo di polso e facciamo assorbire per bene l'acqua e il composto non vi preoccupate se all'inizio sembrerà secco continuate continuate almeno per due minuti a ecco a formarlo ora lo mettiamo in forno 180 gradi per un'ora fate sempre la prova stuzzicadente ed eccolo qui non scuro ed eccoci qui vediamo se la camera riesce a mettere a fuoco l'alveolatura no ok devo cambiare camera comunque è buono è veramente buono come vi ho detto il sapore non ricorda ricorda molto il pane classico col glutine e con il lievito il sapore di cocco si sente? no non si sente non si sente il sapore di cocco ed è veramente buono io non ho messo il sale nella preparazione della ricetta preferisco di no lo metto nelle insalate però voi sentitevi liberi di aggiungere il sale se vi piace ed è veramente buono lo potete anche tostare e usarlo per spalmarci quello che volete che dire ho superato i 1100 iscritti grazie a voi il canale sta veramente crescendo e poi youtube mi ha aggiunto questa funzionalità di poter inserire post immagini e sondaggi ed è veramente utile perché questo mi mette in contatto con voi fatemi sapere se il video vi è piaciuto commentate e iscrivetevi al canale lo apprezzerei voglio arrivare a quota coloro che ancora non sono iscritti ovviamente voglio arrivare a quota 5000 il cammino è arduo ma col vostro supporto ce la farò e tenetevi pronti perché darò il via adesso a una serie di ricette dolci e salate voglio realizzare diverse torte che ci sono qui in Inghilterra in versione chetogenica quindi quella che sta nel sondaggio la torta al caffè alle noci la realizzerò prossimamente spaghetti di pollo spaghetti proteici di pollo pollo vero no shirataki niente di tutte queste cose qui state rimanete sintonizzati iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici così mi aiuterete a crescere ciao alla prossima videoricetta